Siete tutte e tutti invitati al Monc a Roma domenica mattina, questo 4 dicembre alle ore 10. Abbiamo bisogno di vederci con le tante persone con cui ci siamo scritti e sentiti in queste settimane, dentro il Partito Democratico e il suo processo costituente, così come fuori. Abbiamo bisogno di confrontarci attorno a quella visione di futuro fatta di proposte concrete che vogliamo portare come contributo a questo percorso. Abbiamo bisogno di organizzarci, abbiamo bisogno di costruire insieme una nuova strada che parta da noi, da voi e che attraversi il Paese per cambiarlo. Ci vediamo al Monc 10 di mattina domenica 4 dicembre. Vi aspettiamo.